buonasera a tutti buon fine settimana sono sparito un po di giorni chiedo scusa ma purtroppo ho avuto un forte di colpo lunedì mattina no cos'era venerdì sera due venerdì fa di colpo non sentito niente una paura un abboio boh sono dato del mio medico ho chiamato niente niente boh mi ha dato appuntamento lunedì non è di mattina sono a lavorare come come si deve andare e poi detto boh passerà boh mi ha dato una settimana di riposo purtroppo per un morito potevo andare ho messo gli oli d'oliva mi dicono ti vorrei che c'è il canule compri la bella io messo olio d'oliva ho preso le pastiglie posso dire niente già dove ero dubbioso che mi ha dato questa qui ma grazie a dio è andata ho fatto la pulizia delle orecchie mila puliti adesso può dire qualcosa di più sento meno male e che dirà altro niente sono raffreddato e vabbè sono contento che boh ringrazio piaccia da corizia che mi ha portato ora sento ringrazio la dottoressa giulia e che fonte no giulia giulia dottoressa giulia ringrazio di cuore che si preoccupato di me ora grazie a dio ci sento sento di più ma purtroppo l'orecchio eccolo è purtroppo un naso gola è pericoloso potremmo di fare un avvento torino lo sei se lo andrò a fare privatamente e che dire vi voglio bene vi auguro buona serata buona cena buon fine settimana fate i bravi restate sani movimento e movimento camminare camminare e che dire saluto tutti sotto dell'ala 309 particolare tiziana ivana santa tornandini e tutte le altre persone che mi seguono mi guardano antonella massacra rara antonella da cagliari e vabbè tutti voi mi ringrazio di cuore grazie di cuore le preoccupazioni delle mie pre fatte avete pregare e poi fare una preghiera alla carissima giuliana nota fotografa che gli mancata la madre mi sentite condolenze e ora vado a capato a carla e lo chef franco ha cucinato ha cucinato lasciato le polpette se le ha lasciate quello è dare controllo e bacione vi auguro una buona serata buona cena buon fine settimana purtroppo un concerto è saltato e non sono tutto essere presente mi ha fatto della malattia e dopo anche non sentivo il coro che cantava che il maestro che ha sconato quell'ora purtroppo io non ho potuto sentire questa cosa qua peccato non ho fatto le foto resto vi voglio bene iscriviti franco su youtube mi raccomando fate i bravi grazie ancora grazie avermi pensato vi auguro una buona serata un abbraccio e vi voglio bene bacione ciao a tutti e tutte ciao mi raccomando franco tutto su youtube ciao anzi prima che mi dimentico tanti auguri amari marie cruz mi felice anniversario ciao a tutti e buon fine settimana ciao 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 ciao